In arrivo quasi 4.000 verbali di accertamento a chi ha usufruito di prestazioni nel 2013 dichiarando un'esenzione falsa. L'asla Toscana Sud-Est infatti deve richiedere oltre un milione di euro a 3.981 cittadini che in regime di esenzione totale o parziale del ticket hanno fatto visite ed esami dietro la prestazione di un'autocertificazione mendace, a rilevare i dati corretti e inviarli alle aziende sanitarie SOGEI che incrocia i numeri dell'Agenzia delle Entrate, IMSS e Ministero del Lavoro. Il verbale di accertamento è il primo passo del processo sanzionatorio. Se non verrà pagato successivamente sarà infatti notificata l'ordinanza di ingiunzione seguita dall'eventuale iscrizione a ruolo. Sono 1.581 gli aretini chiamate a ridare all'azienda 436.557,84 euro che potranno pagare una sanzione ridotta di un terzo entro 60 giorni dalla notifica. In questo caso l'importo sarà costituito dal ticket evaso, dalla sanzione pari al ticket e dalle spese. Dopo i 60 giorni l'importo da pagare sarà invece pari al ticket dovuto più la sanzione amministrativa che ammonta tre volte il ticket evaso e alle spese di notifiche e amministrative. L'interessato può proporre ricorso ma questo non interrompe il periodo dei 60 giorni per il pagamento in forma ridotta. Infine i verbali di accertamento conterranno tutte le informazioni necessarie all'utente.